3, 2, 1... Sindaco, 10 anni, cosa significa un brand internazionale qui a Lecce come McDonald's? Il fatto che McDonald's dopo 10 anni decida di continuare a investire su questo punto vendita vuol dire che ha ben fece 10 anni fa quando scelse questa piazza. Lecce è una città turistica, quindi McDonald's è un'offerta standard internazionale per tantissimi turisti, tantissimi turisti che raggiungono la nostra città sempre più numerosi e sono abituati a mangiare fast food da McDonald's. Lo fanno in Francia, lo fanno in America, lo fanno in tutte le parti del mondo, però è anche un punto di riferimento anche per i leccei, soprattutto per i più giovani. Mia figlia è un'assidua frequentatrice di questo posto perché lei adora l'hamburger e qualche volta trascina anche me e devo dire che non mi dispiace. Il suo Mac menù preferito? Io sono ancorato alla vecchia tradizione, il Big Mac è il mio preferito. Beh, non poteva mancare McDonald's in persona. Ronald, Ronald. Ronald McDonald. Eccomi qua. Come state? Tutto bene? Tutto bene. Complimenti, siete una città fantastica a Lecce. Vieni direttamente da? Da Milano. L'animazione è direttamente da Milano. Eccomi, sono capultato qua a Lecce. Come ti sembra questo ambiente? Fantastico, guarda che roba, guarda che meraviglia, tutto nuovo, tutto all'avanguardia, tutto meraviglioso. Beh, direi che il mio preferito è il Big Mac, è un panino storico come me, ma ancora all'avanguardia. È lo stesso che ha scelto il sindaco? Certo, perché per me è ancora quello migliore. Grazie. Ciao. Finalmente ci siamo, i dieci anni sono arrivati, ce ne auguriamo tanti altri. Sicuramente, sono arrivati dieci anni, con un look tutto nuovo, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, perché per essere simile alla nostra grande piazza, bella piazza, che è Lecce, ma anche la piazza San Toronzo, che ci ospita qui a Lecce. Siamo convinti di fare sempre meglio e tutti i clienti che vengono a trovarci rimangono così stupiti, perché abbiamo fatto un bel lavoro, insomma, speriamo. A cosa vi siete ispirati, infatti, per ristrutturare il McDonald's? È un look anni 30 americano, un look elegante, sono pochissimi locali di questo tipo in Italia, sono 6-7 McDonald's come questo, diciamo che è l'alto di gamma come stile. Grazie a tutti. Ci hanno detto di consegnarti questa torta. Grazie. Ciao, come stai? Quei chili che avevo perso. Direttamente da X Factor, qui al McDonald's? Di Lecce, sono felicissimo, sto bene. Soprattutto rappresenti un'icona per le ragazzine qui al McDonald's, come stai, come ti sembra questo posto? È molto bello, io mi trovo, ho detto già prima che mi trovo a casa qui, quindi mi sento a mio agio. Senti, ci vieni spesso, tu al McDonald's, mangi spesso? Assolutamente. Il tuo McMenu preferito? In realtà tutti, che qui è tutto buono, dai. Spendi qualche consiglio? Quelli con le salse piccanti sono spettacolari. Come va, com'è ritornare qui? È bello, soprattutto ritornare nella mia terra, è bello, c'è un'atmosfera totalmente diversa. Puoi anticiparci qualcosa, qualche tuo progetto futuro? Sono a lavoro sul nuovo disco, quindi sto lavorando su questo in questo periodo e spero che esca presto. Puoi anticiparci qualcosa? Meglio aspettare l'uscita del disco. Qualcosa di vecchio? Il tempo migliore se tu lo vorrai. Grazie. Grazie a tutti.